Il maltempo lo scorso sabato si è abbattuto sul casentino. Squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire a causa dei danni causati dal downbrust, lo stesso violento fenomeno atmosferico che un anno fa aveva messo in ginocchio la città di Arezzo. Alberi abbattuti dal vento e tegole dei tetti precipitati in mezzo alla strada. Sul posto sono arrivate squadre del comando di Arezzo e dei distaccamenti di Bibbiena e Prato Vecchio. Il loro supporto è stata inviata anche una partenza dal comando di Siena e una toscala da quello di Firenze. La zona maggiormente colpita è stata quella di soci nel comune di Bibbiena. Qua ci ha aperto la finestra, ci ha fatto un po' di danno, sono cascati tutti i vasi, ha distrutto un po' di cose. Appena ora si è finito un po' di mettere a posto e niente. Ha avuto paura? Un po' sì, un po' sì, perché si sono sentiti i tonfidi là, siamo subito andati a vedere cosa era successo, era tutto sotto sopra. Altri danni si sono registrati all'Ecomuseo del Casentino, dove i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il tetto fortemente danneggiato.